Musica Precipita con il paracadute vicino all'aeroporto Ferrarini, tiene un 64 anni di Sebastiano Dentro e morto dopo il ricovero all'ospedale di Vicenza. Fatale, probabilmente, il forte vento. Parla il difensore di Angelica Utter, accusata dell'assaltio di Santo Stefano di Cadore. In libertà vigilata, si trova in una struttura e si sta curando. Spiega, rischia fino a sette anni di condanna per ciascuna delle tre vittime. Alberi in strada, a causa di una frana, auto si schianta e prende fuoco. È caduto a schio, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. La circolazione è stata temporaneamente interrotta. Grande commozione a Colle Umberto per la storia d'amore e di dolore di Alberto e Greta, che si sono uniti in matrimonio pochi giorni prima che una tragica malattia si portasse via. Il giovane sposo. In tutto il Veneto, oggi, è stata una giornata di sciopero degli addetti alla grande distribuzione organizzata. Adesione masticcia da parte dei lavoratori è arrivata al 100% in un supermercato di Conegliano. Il nucleo tutela animale della polizia locale di Padova ha scoperto ben 47 gatti privi di acqua, cibo e luce in un appartamento di Corso Milano, denunciato una cinquantenne. Da domani sera alla mezzanotte di martedì nuova allerta meteo per le abbondanti precipitazioni in arrivo a decretare il rischio idrogeologico per la fascia prealpina e la protezione civile regionale. Domani mattina dalle 10 appuntamento in diretta su Antenna 3 per la Santa Messa di Pasqua dalla Basilica di San Marco presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano la tragedia che si è consumata a Tiene un precipitato con il paracadute vicino all'aeroporto Ferrari inditiene la vittima, un 64enne padovano morto all'ospedale di Vicenza. Precipita con il paracadute e muore. Tragedia a Tiene dove a perdere la vita è un padovano 64enne di Selvazzano dentro. È quasi mezzogiorno quando, costretto a un atterraggio di fortuna accanto all'aeroporto Ferrari, forse a causa del forte vento finisce in un terreno agricolo vicino. In un primo momento sopravvive all'impatto. Viene lanciato l'allarme al 118. I medici e gli infermieri, a corsi sul posto, soccorrono il paracadutista che appare subito gravissimo. Il ferito viene trasportato con l'elisoccorso di Verona al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Ma poi purtroppo non ce la fa e muore in ospedale. Ancora in corso gli accertamenti per verificare la dinamica del tragico incidente. Il punto adesso sul caso di Angelica Utter, la donna responsabile della strage di Santo Stefano di Cadore. ci spiega tutto in un'intervista esclusiva rilasciata al collega Fabio Fioravanzi, il suo avvocato difensore. Tecnicamente la Utter rischia fino a sette anni di condanna per ciascuna delle tre vittime. Avvocato, oggi Angelica Utter come sta? Allora, oggi Angelica Utter sta meglio, nel senso che l'ho vista anche in occasione dell'udienza, di un'udienza che si è svolta ieri nel tribunale di Belluno e ho visto che sicuramente si è ripresa rispetto allo stato in cui si trovava. Perché, a mio avviso, hanno accertato la malattia di cui la stessa soffre e hanno iniziato una cura, una terapia tale da far sì che l'Angelica si possa riprendere da queste problematiche. Dove si trova adesso? Adesso si trova in una struttura protetta. È stata applicata da parte del magistrato la libertà vigilata e si trova in una struttura protetta proprio per seguire questo percorso di riabilitazione, di cura e per venire fuori evidentemente da questo stato in cui si trovava precedentemente. Invece qual è il percorso giudiziario? Il percorso giudiziario adesso prevede adesso innanzitutto è cessata la misura cautelare che era stata applicata precedentemente e gli è stata applicata una misura di sicurezza appunto la libertà vigilata. E adesso i prossimi passi presumo che dovrà fare il pubblico ministero saranno la fissazione dell'udienza preliminare. Innanzitutto la notifica dell'avviso di garanzia e la conclusione delle indagini e successivamente la fissazione dell'udienza preliminare. Tecnicamente può essere condannata una pena detentiva? È ovvio che sulla scorta della perizia che è stata depositata da parte del collegio per itale nell'ambito dell'accertamento tecnico che è stato disposto può essere evidentemente processata e come tale potrà essere ovviamente condannata. Noi dal canto nostro sosteniamo che invece la stessa fosse in stato di incapacità di intendere di volere e che conseguenzialmente a nostro modo di vedere non possa essere condannata proprio perché manca l'imputabilità. Si chiama Massimo Galletti il 64enne di Caselle di Selvazzano dentro che è precipitato con il paracadute vicino all'aeroporto di Tiene di cui vi abbiamo dato conto proprio in apertura di telegiornale. Restiamo con la cronaca nel Vicentino con un incidente accaduto a schia una vettura si è schiantata contro gli alberi caduti a causa di una frana l'auto poi ha preso fuoco. Schio, vigili del fuoco in azione incontra Mazzeghe per l'incendio di un'auto finita contro degli alberi caduti lungo la strada a causa di una frana illeso il conducente i pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno spento con la schiuma le fiamme dell'utilitaria la strada a causa del movimento franoso è stata interrotta sul posto gli agenti della polizia locale e di viabilità. Morto a 40 anni dopo due dimissioni del pronto soccorso due medici dell'ospedale di schiavonia rischiano il processo per omicidio colposo per i fatti legati alla morte di Andrea Naliato camionista di Arre deceduto nel 2022 per un aneurisma. Era morto dopo l'ennesimo malore prima era stato visitato ben tre volte la prima volta dalla guardia medica e poi due volte in pronto soccorso Andrea Naliato autotasportatore di Arre era deceduto il 4 novembre del 2022 per un aneurisma quattro giorni prima era stato visitato da due medici del pronto soccorso di schiavonia che lo avevano dimesso dopo due tacche e la prescrizione di farmaci per abbassare la pressione l'uomo però continuava ad accusare forti dolori alla testa a distanza di un anno e mezzo i due medici dell'ospedale di schiavonia sono stati indagati per omicidio colposo e rischiano il processo secondo il pubblico ministero che dovrebbe chiedere rinvio a giudizio i due professionisti avrebbero concorso alla morte del quarantenne che dopo le tre visite si era accasciato davanti alla moglie ed era deceduto dopo l'ultimo ricovero in ospedale a Padova a seguito dell'aneurisma la procura ha studiato soprattutto il referto dell'angiotac eseguito dal medico radiologo che risulta indagato e a cui viene contestata un'errata diagnosi il dottore non aveva considerato una nuova rivalutazione nonostante le cefalee la pressione è alta e il quarantenne era stato dimesso con un codice bianco quasi tre chili e mezzo di hashish e marijuana sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Padova in un'operazione antidroga un pusher nel tentativo di sfuggire all'arresto è rimasto ferito stava cercando di scappare con un etto di eroina e quasi mille euro in tasca a provento dello spaccio il trentenne tunisino che è rimasto ferito scavalcando il cancello di un'abitazione a Padova l'arresto a Roccambolesco in via Baruzzi in zona mortise il pusher per sfuggire alla polizia si è procurato un taglio alla coscia che è stato medicato dagli agenti che lo hanno fermato e poi portato in carcere nonostante le minacce dei suoi compagni il bilancio dei controlli antidroga della squadra mobile di Padova in vista del weekend delle festività pasquali ha portato al sequestro di oltre tre chili e mezzo di hashish e marijuana in carcere oltre al trentenne tunisino un connazionale di 41 anni pregiudicato e irregolare un trentotenne padovano incensurato di Albignasego ai domiciliari un 59enne italiano pregiudicato di fanzolo di Vedelago mentre altri tre pusher di strada un 25enne tunisino e due nigeriani di 26 e 29 anni sono stati arrestati in flagranza e sono stati già condannati per direttissima altri 850 grammi di hashish sono stati invece ritrovati in via delle Rose sempre a Padova dopo la segnalazione di un residente i panetti erano contraddistinti dalle foto dei calciatori Ronaldo e Buffon il sequestro più importante oltre un chilo e mezzo di droga riguarda quello fatto a casa del 59enne Trevigiano controllato a Padova in zona Montame entrare in auto con due amici ha consegnato una dose di chetamina sostenendo fosse per uso personale ma su suo cellulare continuavano ad arrivare messaggi così i poliziotti hanno perquisito la sua auto e la sua abitazione a Vedelago scomprendo nascosta all'interno di un'intercapedine delle pareti della camera da letto due cilindri con i loghi di Scarface e Forza Napoli contenenti Ashish un altro chilo e mezzo questa volta di marijuana l'hanno sequestrata dal Vignasego a casa di un 38enne nel suo garage un pusher tunisino è stato bloccato a Selvazzano mentre consegnava una dose di cocaina mentre i due nigeriani sono stati bloccati vicino ad un negozio etnico di via Nibale da Bassano restiamo nel Padovano andiamo a Campo San Piero dove qualcuno ha hackerato il profilo Facebook del parroco di San Marco pubblicando foto o scene ignoti malfattori e per me delinquenti hanno hackerato il mio profilo pubblicando immagini o scene ho già provveduto a segnalare a Facebook la rimozione immediata del post con questo messaggio sui social Don Bruno bevi l'acqua parroco di San Marco e di Campo San Piero ha denunciato quanto gli è accaduto proprio nei giorni in cui stavano iniziando le celebrazioni del triduo pasquale il post con foto pornografiche si era diffuso tra i contatti del sacerdote che hanno segnalato al parroco la violazione del profilo social alcuni sconosciuti si sono addirittura proposti di risolvere il problema ma spesso si tratta di truffatori il sacerdote ha immediatamente segnalato l'accheraggio e si è detto scandalizzato dell'accaduto ribadendo ancora una volta la massima attenzione all'uso dei social media la solidarietà a Don Bruno è arrivata da tantissimi parrocchiani anche nella marca trevigiana come in tutto il Veneto oggi è stata una giornata di sciopero degli addetti alla grande distribuzione organizzata grande adesione da parte dei lavoratori arrivata al 100% in un supermercato di Conegliano nella provincia di Treviso abbiamo raggiunto un ottimo risultato soprattutto con la Lidl e oggi la Lidl di Conegliano hanno aderito al 100% per cui non è stata aperta al pubblico un segnale di come per tanti addetti alla grande distribuzione della marca del Veneto non sia possibile pensare di scambiare un aumento salariale con maggiore flessibilità nei turni di lavoro per questo in un sabato di super lavoro in tanti sono rimasti fuori dai loro supermercati con bandiere e striscioni come a Treviso davanti al panorama delle stiori dopo 51 mesi dalla scadenza del primo e ultimo contratto nazionale di lavoro della distribuzione moderna organizzata Veneto Distribuzione ha deciso di lasciare i lavoratori e le lavoratrici senza rinnovo e senza contratto nazionale la TMO e le aziende del settore ci propongono di modificare il rinnovo del contratto chiedendoci di scambiare diritti in cambio di salario per noi è assolutamente inaccettabile peggiorare le condizioni di lavoro in cambio di aumenti salariali che pensiamo che debbano essere già stati riconosciuti dalle aziende del settore noi diciamo che è stata una rottura del tavolo assolutamente strumentale in quanto gli altri contratti di comparto con Commercio con Fesercenti e Coop che è stato firmato l'altra sera non hanno trovato ostacoli quindi dopo un periodo di trattativa abbiamo portato a conclusione di questi contratti accordi conclusi dopo mesi di mobilitazioni grazie anche alla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del 22 dicembre scorso importanti aumenti salariali con un aumento di 240 euro lordi mensili nel triennio ma quello che impensierisce soprattutto le lavoratrici è la flessibilità d'orario uno dei principali motivi per i quali la mobilitazione sindacale proseguirà ad oltranza sono tante le donne che lavorano all'interno di questo settore e c'è la necessità di rivedere anche attraverso anche la contrattazione di secondo livello la possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro oggi ci sono tante richieste di personale perché molti giovani non vogliono lavorare in questo settore molte giovani proprio perché hanno difficoltà a conciliare tempi di vita e di lavoro nuova azione del coordinamento non inceneritore fusina questa mattina in vista della grande manifestazione contro gli inceneritori programmata per sabato primo giugno a Mestre una cinquantina di attivisti si sono radunati nei pressi del vecchio ingresso del petrolchimico e mentre alcuni dipingevano una grande scritta sul muro di cinta ricordando la scadenza della manifestazione altri esponevano striscioni e cartelli che richiamavano la protesta contro gli inceneritori di Eni, Rewind e Veritas finalizzati in particolare all'incenerimento di fanghi inquinanti da FAS e altro l'azione si inserisce in un percorso denso di iniziative verso il primo giugno che vedrà già la prossima tappa il 6 aprile sempre a Mestre in occasione della manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica si accende il dibattito avviato dalla proposta del ministro Salvini di porre un tetto nelle scuole per gli studenti stranieri in classe a Venezia la CGL taglia corto e invita il ministro a venire a conoscere la città con la sua multietnicità una proposta razzista e figlia di una campagna elettorale così Monica Zambone segretaria CGL Venezia sì noi crediamo che questa proposta sia del tutto come si può dire fuori contesto anacronistica fuori dalla società così la CGL Venezia sulla proposta del ministro Matteo Salvini avallata anche dal ministro all'istruzione Giuseppe Valditara quella cioè di imporre il tetto del 20% agli studenti stranieri in classe Salvini dimostra di non conoscere i territori specie la realtà veneziana mistrina con la sua acclamata interculturalità per questo lo invitiamo qui l'invito sempre da Venezia del segretario generale della CGL lo invitiamo a farsi un giro a farsi una passeggiata in città a vedere la presenza di moltissime famiglie straniere che sono venute qui per lavorare che vivono nel nostro territorio tra Mestre e Marghera si erano quota 50% le lavoratrici di origine straniera occupate in diversi settori specie come ha detto nella pulizia negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri dati CGL infatti questi studenti sono figli di quella che è diventata una classe produttiva molto incisiva rispetto all'economia locale non dobbiamo mai dimenticare che questi lavoratori sono i lavoratori che lavorano a fincantieri sono le lavoratrici che lavorano negli appalti quindi mi chiedo quale sia come si può dire il vero scopo di una proposta del genere di certo non è una proposta volta a in qualche modo a determinare appunto la questione e a rendere la società sempre più inclusiva e appunto verso il multiculturalismo mettere un tetto al numero di studenti significa deportare ragazze e ragazze decine di chilometri da casa facendo ricadere i costi sulle famiglie incentivando la dispersione scolastica concludono i sindacalisti rinnovando l'invito esteso a Salvini noi l'aspettiamo ministro Salvini ovviamente insomma rispettando gli impegni di tutte le dichiarazioni che lei puntualmente fa grande commozione a Colle Umberto e a San Giacomo di Veglia per la storia d'amore e di dolore di Alberto e Greta che si sono uniti in matrimonio pochi giorni prima che una tragica malattia si portasse via il giovane sposo ha vissuto fino all'ultimo quando senza l'ittimismo e con la speranza con la grande tenacia dopo la malattia è stata più forte descrive così il sindaco di Colle Umberto Sebastiano Coletti l'ultimo tratto del percorso di vita di Alberto Zanchetta il trentunenne che ha coronato il suo sogno d'amore quattro giorni prima che una forma tumorale rarissima lo portasse via alla sua Greta sette anni insieme fatti di tanti progetti improvvisamente cancellati nel 2022 quando arriva la terribile diagnosi e iniziano una serie di pellegrinaggi in Svizzera negli Stati Uniti in Corea un percorso compiuto mantenendo tutte le sue attività dal lavoro nel settore agricolo alla musica con il gruppo che aveva fondato nel 2012 che Alberto stesse male lo si sapeva io lo sapevo che stava male molto male che il tempo stava scadendo però non l'ho mai dato a capire anche agli amici al gruppo degli amici perché continuava ad essere attivo sui gruppi Whatsapp fino all'ultimo ma la malattia inesorabilmente gli ha imposto il ricovero al cro di Aviano ed è lì che domenica scorsa Alberto e Greta hanno deciso di sposarsi avrebbero voluto farlo in municipio a Colle Umberto ma è stato lo stesso sindaco indicare Aviano per lo scambio delle fedi avevo capito insomma che il tempo stava stringendo e pertanto ho detto agli uffici fate tutto con Aviano che faccia direttamente Aviano a me personalmente è dispiaciuto non poter celebrare il matrimonio però era più importante che riuscissero a celebrare loro in poche ore è stato organizzato tutto al mattino di domenica sono arrivate le fedi e i fiori e nel pomeriggio i genitori testimoni e gli amici più stretti ed infine il sindaco di Aviano che ha unito Alberto e Greta nel reparto di oncologia dell'ospedale Friulano uno sprazzo di felicità prima che si compisse il tragico destino giovedì scorso l'ultimo saluto l'ultimo saluto ad Alberto Zanchetta è stato fissato martedì pomeriggio nella chiesa di Menerè per una storia di dolore ma soprattutto di un grande amore che le comunità di Colle Umberto ma anche di San Giacomo dove la coppia viveva da qualche anno difficilmente dimenticheranno in un mondo sempre più frenetico questi due ragazzi con la loro storia hanno fermato il tempo l'economia con i risultati per il 2023 del gruppo ERA approvati dal Consiglio di Amministrazione un bilancio 2023 positivo per il gruppo ERA l'esercizio si chiude con i principali indicatori economico-finanziali in crescita e in anticipo di tre anni si registra il superamento dei target del precedente piano strategico a 2026 e allora ecco alcuni numeri margine operativo lordo aggiustato a 1494,7 milioni di euro con un più 15,4% utile netto aggiustato di pertinenza degli azionisti a 375,2 milioni di euro più 16,5% indebitamento finanziario netto in miglioramento a 3827,7 milioni di euro meno 10% e ancora investimenti operativi lordi per 815,8 milioni di euro più 15% tenendo conto dei risultati raggiunti il CDA ha deciso di proporre all'Assemblea dei Soci la distribuzione di un dividendo di 14 centesimi per azione in rialzo di 1,5 centesimi rispetto all'ultimo dividendo pagato un quadro complessivo che ha consentito alla Multi Utility di proseguire il percorso di crescita industriale incrementando gli investimenti cogliendo con successo le opportunità di mercato e continuando a generare valore a beneficio di tutti gli stakeholder nel panorama positivo di ERA si inseriscono i risultati e le attività della controllata commerciale East Energy attiva nella fornitura di energia elettrica gas naturale soluzioni per il risparmio energetico il fotovoltaico e la mobilità elettrica in linea con i risultati del gruppo la SPA ha chiuso positivamente l'esercizio 2023 con un margine operativo lordo al 31-12-2023 di 65,4 milioni più 12% rispetto al 2022 e con investimenti lordi che hanno superato i 22 milioni di euro con un più 115% rispetto al 2022 incrementato anche il numero dei clienti che supera il milione di contrattualizzazioni così come aumenta il numero di impianti fotovoltaici e soluzioni il nucleo tutela animali della polizia locale di Padova ha scoperto ben 47 gatti privi di acqua cibo e luce in un appartamento di Corso Milano le bestiole sono state salvate sono state affidate alle cure dei veterinari dell'esercito e dalle volontarie dell'associazione Bazzu odori nauseabondi si erano diffusi in tutto il palazzo di Corso Milano a Padova quando però un gatto è precipitato dalla finestra del quinto piano i residenti dello stabile non hanno potuto che allertare la polizia locale per denunciare le condizioni igieniche precarie in cui versava un appartamento di proprietà di una cinquantenne quando gli agenti del nucleo tutela animali della polizia locale di Padova sono entrati nell'abitazione con i medici veterinari dell'esercito hanno trovato ben 47 gatti alcuni anche appena nati tutti malnutriti l'appartamento era sporco e maleodorante i felini senza acqua e cibo girovagavano tra escrementi e immondizia nelle stanze chiuse e completamente buie tutti i gatti sono stati portati all'ospedale veterinario universitario didattico di Legnaro per le prime cure dalle quali sono emerse molte patologie di natura neurologica polmonare e cutanea molte irreversibili tanto da portare alla cecità di alcune bestiole gli agenti si sono quindi recati nel quartiere Mandria dove risulta residente la cinquantenne anche in quel caso l'abitazione era sporca e maleodorante e vi erano presenti dei gatti il comune di Padova ha messo a disposizione una struttura dove poter ricoverare i felini durante il periodo di sequestro per poter essere curati e accuditi dall'indagine è emerso che molti degli animali erano stati prelevati da colonie e accumulati all'interno dell'appartamento la cinquantenne è stata denunciata per maltrattamento di animali da questo pomeriggio il meteo regionale prevede varie fasi di precipitazioni intervallate da qualche parziale pausa la fase più intensa si verificherà tra la serata di domani è il primo pomeriggio di lunedì quantitativi complessivi abbondanti di pioggia sulle zone prealpine sulle dolomiti precipitazioni più discontinue e meno abbondanti sulla pianura centro meridionale domani mattina dalle 10 appuntamento in diretta su Antenna 3 per la Santa Messa di Pasqua presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia domani mattina le nostre telecamere porteranno ancora una volta nelle vostre case in diretta la celebrazione dalle ore 10 della Santa Messa di Pasqua nel suo renne pontificare del mattino dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia presieduto dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia una parqua di risurrezione che come segno particolare porta quest'anno in dono anche l'attesa per la visita di Papa Francesco prima a Venezia e poi nelle altre terre del nord-est Verona e Trieste che Pasqua è per lei per Venezia anche per il suo arrivo del Santo Padre tra pochi giorni è una Pasqua come le altre perché celebriamo tutti gli anni la gioia della risurrezione è una Pasqua diversa da tutte le altre perché attendiamo con gioia la venuta del successore di Pietro nella Basilica di San Marco domani è facile attendersi tra i turisti fedeli da varie parti del mondo per questo alcune preghiere saranno recitate in più lingue ma una Pasqua che non può prescindere dal desiderio di pace e dal delicato momento internazionale che stiamo vivendo come lo stesso Patriarca ha ricordato qualche giorno fa all'infiorato nel piazzale ferroviario di Santa Lucia bisogna pensare la pace quando si è ancora in pace e Venezia è questo simbolo tra Oriente e Occidente le sue chiese i suoi edifici la sua storia parlano di questa capacità di unire l'Oriente all'Occidente un teorico inter salus l'origine è un sì di una donna appuntamento dunque su Antenna 3 con tutti voi domani mattina dalle ore 10 dalla Basilica Cattedrale di San Marco Torna l'ora legale stanotte esattamente le 2 scatterà il cambio dell'ora le lancette degli orologi si dovranno spostare in avanti di un'ora l'ora di smartphone tablet computer di qualsiasi dispositivo connesso a internet si aggiornerà automaticamente è tutto vi lascio le previsioni del tempo grazie per averci seguito da parte mia una buona Pasqua cooperativa agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori ben trovati al meteo Pasqua con il maltempo una perturbazione atlantica infatti raggiunge il nostro territorio vediamo il dettaglio di domenica sul Veneto tempo variabile avremo locali schiarite inizialmente poi specie nella seconda parte della giornata sarà più alta la probabilità di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio le temperature saranno in calo minime tra 9 e 11 gradi massime tra 14 e 18 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso sarà più asciutto al mattino a seguire piogge intermittenti anche abbondanti e localmente dei temporali forti temperature minime tra 10 e 12 gradi massime sui 15 17 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove saranno possibili annuvolamenti intensi accompagnati da rovesci soprattutto nel pomeriggio e nel corso della serata temperature minime sui 7 8 gradi massime intorno ai 13 15 gradi l'aggiornamento meteo per ora termina qui a tutti voi gli auguri di una serena Pasqua cooperativa agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori